Benvenuti nel mondo degli orologi Urwerk. Urwerk è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 1997 dai designer Felix Paungartner e Martin Frey. Da allora il marchio ha fatto la storia dell'orologeria svizzera, grazie alla sua innovazione tecnologica e al design futuristico dei suoi orologi. Gli orologi Urwerk sono caratterizzati da un design unico e innovativo, che si ispira alla fantascienza e alla tecnologia avanzata. Ogni orologio Urwerk è realizzato a mano da artigiani altamente qualificati, che utilizzano solo i materiali più pregiati e le tecniche di lavorazione più sofisticate. Uno dei tratti distintivi degli orologi Urwerk è l'utilizzo di un sistema di indicazione del tempo basato su rotori. Questo sistema utilizza dei rotori che ruotano intorno all'asse centrale dell'orologio per indicare le ore e i minuti. Questa tecnologia avanzata è stata sviluppata appositamente per Urwerk e rappresenta un'innovazione nel campo dell'orologeria. Ma la tecnologia non è l'unico punto di forza degli orologi Urwerk. Il marchio si distingue anche per il design innovativo dei suoi orologi, che si ispira alla fantascienza e alla tecnologia avanzata. I modelli di punta di Urwerk includono l'UR-105 e l'UR-110. L'UR-105 rivisita l'iconica indicazione satellitare di Urwerk, che è stata un elemento distintivo emblematico e immediatamente riconoscibile del marchio per 18 anni. Si tratta di un'indicazione delle ore errante basata su una giostra che trasporta i quattro satelliti, ciascuno recante tre numeri per le ore. L'UR-110 continua la tradizione radicale di Urwerk di leggere l'ora utilizzando complicazioni satellitari in orbita. Nell'UR-110, l'ora viene sempre visualizzata sul lato destro dell'orologio. L'UR-110 dispone anche di una scheda di controllo sul lato del quadrante con indicatori per giorno-notte e cambio dell'olio, nonché piccoli secondi. Urwerk continua a essere un marchio molto apprezzato da appassionati e collezionisti di orologi di lusso. La sua innovazione tecnologica e il design futuristico dei suoi orologi lo rendono un marchio unico nel mondo dell'orologeria svizzera. Se sei un appassionato di orologi di lusso e vuoi possedere un pezzo unico e innovativo, non puoi non prendere in considerazione gli orologi Urwerk. Grazie alla loro innovazione tecnologica e al design futuristico, rappresentano il massimo dell'orologeria svizzera e sono il sogno di ogni collezionista.